Crescono gli interventi in montagna del soccorso alpino. Nel 2021 sono stati 411, più di uno al giorno. 31 le persone recuperate senza vita. Tra le cause anche i morsi di insetti e di vipera. A Calolzio una famiglia su tre è in ritardo con il pagamento della mensa scolastica. In alcuni casi i debiti arrivano a 1000 euro. L'appello del comune mettetevi in regola o perderemo il servizio. L'ECCO si conferma la provincia più metalmeccanica d'Italia. Oltre 2000 aziende danno lavoro a 30.000 persone. Nel 2021 900 nuove assunzioni. Export in crescita. Basta un clic per cambiare residenza. Sono in crescita i servizi accessibili da remoto erogati dal comune di Lecco. L'amministrazione organizza anche gli sportelli in municipio. Buonasera. Le montagne e le chiese attirano sempre più escursionisti e nonostante il lockdown continuano a crescere gli interventi del soccorso alpino. Più di uno al giorno. 31 le persone recuperate senza vita. Ecco i dati dell'attività 2021. Andare in montagna è una passione sempre più diffusa. Non sorprende quindi che nel corso del 2021 i volontari della diciannovesima delegazione lariana del soccorso alpino chiudono il bilancio dell'attività con una crescita degli interventi. 411 le uscite complessivamente effettuate. Vale a dire più di una al giorno. Una crescita costante a partire dal 2018 quando gli interventi erano stati 314. Una crescita che non è stata interrotta dal lockdown. 429 le persone soccorse lo scorso anno. 31 delle quali purtroppo decedute. La maggior parte degli interventi ha però riguardato persone non gravi con 177 illese e 182 con problemi sanitari di lieve entità. Elevato il numero dei soccorritori impegnati nelle uscite 2.153 per un totale di oltre 11.000 ore messe a disposizione. Gli interventi compiuti senza l'impiego dell'elicottero hanno riguardato il salvataggio di 341 persone. Il maggior numero di uscite si è poi verificato in vassassina. Fra le cause degli incidenti prevale la caduta. 144 casi, il 33% del totale. Seguono le scivolate, 49, la perdita di orientamento, il malore e il ritardo. Ci sono state però anche richieste d'aiuto per sfinimento, per folgorazione, per una scivolata su ghiaccio. Infine un intervento è stato richiesto per una puntura di insetto e una per un morso di vipera. Per quanto riguarda invece le attività coinvolte, prevale l'escursionismo con 237 uscite. Dieci richieste d'aiuto sono partite da chi si trovava in ferrata, 16 per i cercatori di funghi. Numeri davvero minimi invece per parapendio e caccia. La nazionalità delle persone soccorse sulle montagne, le chesi e soprattutto italiana. Seguire Germania, Svezia e Svizzera, cinque persone per ciascuna nazione. Soccorsi anche un nigeriano e un islandese. La fascia di età tra i 50 e i 60 anni è quella con maggiore frequenza. A Calolzio Corte una famiglia su tre è in ritardo con il pagamento della mensa scolastica con debiti che in alcuni casi si avvicinano ai 1000 euro. Dal comune l'appello mettetevi in regola o il gestore del servizio se ne andrà. Mense scolastiche, lei ha denunciato oggi una situazione preoccupante. Il 30% degli utenti delle mense di Calolzio Corte sono morosi e questo può rappresentare un problema. Stiamo facendo semplicemente un'operazione di moral suasion nei confronti di queste persone che probabilmente non è che non vogliono pagare ma che hanno, diciamo, si sono dimenticati oppure pensano che le cifre siano così esigue che alla fine possono aspettare. Ecco, il problema è che la società che gestisce le mense comincia a lamentarsi e quindi per evitare irrigidimenti da parte dell'azienda che magari può chiedere di sospendere il pasto che noi non vogliamo che sia così. Quindi è anche per questa ragione che ci siamo mossi per stimolare le persone a saldare i conti. Chi ha dei conti molto alti, chi ha degli arretrati di 5, 6, 700, 800 euro magari può contattare il comune per vedere di trovare una soluzione per una rateizzazione. Gli altri che devono pagare 50 euro, fatelo così evitiamo qualsiasi problema con la società che gestisce la mensa che ovviamente ha dei conti da far tornare e di conseguenza per evitare che prenda delle decisioni che poi vanno contro l'interesse di tutti. Crediamo che il comune già aiuta diverse famiglie che sono in difficoltà a pagare questa retta. Certo, già aiuta una ventina di famiglie, gli paga completamente il pasto, in più molte famiglie presentando l'ISI hanno diritto alla riduzione della tariffa che è di 4,70 euro piena, che è una delle tariffe più basse nella provincia e in più in base all'ISI si può arrivare anche a poco più di un euro e mezzo, poco meno di 2 euro se ha un l'ISI molto basso e quindi già pagano poco. Ma la cosa che mi ha stupito è che sono soprattutto quelli che pagano la tariffa più alta che sono i ritardatari e questo mi spinge a pensare che non c'è un problema di mancanza di volontà ma semplicemente di pigrizia, ecco perché va pagato in anticipo il servizio e quindi un invito caldo senza fare polemiche, senza sollevare polveroni a queste persone a saldare i debiti in modo che l'azienda possa poi continuare la sua attività fino al 2023. L'associazione Cassago Chiama Cernobili insieme all'associazione Le Culture di Lecco promuove per lunedì 21 febbraio una manifestazione silenziosa per l'Ucraina. Invitiamo la cittadinanza a cui sta a cuore la pace a essere presente, dicono i promotori, senza alcun colore politico ma per manifestare la nostra vicinanza al popolo ucraino con il quale abbiamo un'amicizia consolidata negli anni, ospitando migliaia di bambini nelle nostre famiglie. La manifestazione si svolgerà lunedì sera dalle 19 alle 20 in piazza Cermenati a Lecco. La provincia di Lecco si conferma la più metalmeccanica d'Italia, le oltre 2.000 aziende presenti danno lavoro a 30.000 persone, 900 le nuove assunzioni nel corso del 2021 e cresce l'export. Vediamo. Il metalmeccanico lecchese batte il coronavirus. Lecco resta la provincia in Italia maggior tasso di aziende del settore, 2.123 per la precisione. Queste realtà danno lavoro a oltre 30.000 persone, vale a dire un dipendente su tre. Anche in questo caso si tratta del record nazionale. Un trend storico confermato anche durante il 2021, anno nel quale si sono sentite ancora le conseguenze della più grossa crisi dal dopoguerra, quella innescata dalla pandemia. I numeri comunque cambiano. Dal 2016 a oggi le imprese metalmeccaniche lecchesi si sono ridotte del 9%. 29 hanno chiuso nel corso dell'ultimo anno. Si tratta di un processo di riorganizzazione perché sempre nel corso del 2021 in provincia di Lecco il numero di addetti del settore è aumentato di 900 unità. Il peso del metalmeccanico nel territorio si legge nella nota diffusa dalla Camera di Commercio di Comelecco e attestato dalla presenza di un distretto industriale riconosciuto dalla regione che comprende 28 comuni situati in provincia di Lecco, 7 in provincia di Como, 4 in provincia di Monza e Brianza e 1 in provincia di Bergamo. All'interno di questo distretto si sviluppano la produzione e la lavorazione di metalli e loro leghe la fabbricazione e la lavorazione di prodotti in metallo. Nel distretto operano anche industrie che realizzano macchine, impianti, componenti e automazioni funzionali al processo produttivo. Il distretto metalmeccanico lecchese si caratterizza inoltre per la presenza di una rete capillare di piccole e medie imprese elevata a specializzazione con una forte capacità di reazione e risposta ai mutamenti del mercato, aperte alla sfida dei mercati internazionali e orientate a una costante innovazione dei processi produttivi. All'Ecco la quota delle esportazioni di questo settore nel 2021 è stata del 74,8%. In valori assoluti le esportazioni sono aumentate di 455 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi dal 2020 di 162,5 milioni di euro rispetto alla media pre-Covid. A Lecco basta un click per fare domanda per i contributi del bando Ristori Covid per cambiare residenza e svolgere numerosi altri servizi pubblici. Intanto gli uffici si riorganizzano per evitare lunghe code. Il comune di Lecco va verso uno snellimento degli iter burocratici a partire da nuovi servizi online. Di che cosa si tratta? Dove i cittadini possono informarsi? Su quali siano? Nel corso del 2021 abbiamo appunto portato 19 nuovi servizi online. Alcuni magari sono servizi chiesti una tantum, altri invece sono servizi chiesti quotidianamente dai cittadini. C'è un portale dedicato che si accede attraverso il sito del comune e ovviamente è in costante aggiornamento. Solo ieri abbiamo introdotto all'interno di questo portale online l'accesso diretto al portale per richiedere i buoni mensa scolastici direttamente da casa. È chiaro che la pandemia ha notevolmente velocizzato la digitalizzazione anche in altri contesti e quindi sempre più cittadini sono abituati ad utilizzare servizi online e a trovare risposte ogni giorno della settimana a qualsiasi ora. Dovere e responsabilità anche dell'amministrazione rendere disponibili i propri servizi online H24 sette giorni su sette. Niente più che dall'ufficio anagrafe quindi? Beh sì almeno questo è il tentativo, è il nostro progetto. Abbiamo visto che soprattutto nel periodo di covid c'erano delle lunghe file fuori dal portone e abbiamo praticamente voluto innanzitutto portarli all'interno perché l'ambiente dove il cittadino può aspettare è completamente diverso e poi abbiamo anche creato appunto questi uffici front office che possono dare risposte immediate ai cittadini. In questo modo praticamente l'utente che arriva qui ha comunque soddisfazione quindi o gli viene risolto il problema o gli viene dato appuntamento. Poi la soluzione definitiva sarà avere un unico posto per tutti i servizi comunali quindi non solamente per l'anagrafe i tributi e per le carte d'identità ma per tutti i servizi che hanno bisogno di un rapporto con l'utenza in un unico posto e questo lo possiamo fare solo quando andremo nella nuova sede. Un museo all'aperto per valorizzare le bellezze artistiche di Oggiono, Ello e Dannone. Il progetto grazie ai fondi messi a disposizione dall'Ario Reti Holding punta anche sulla figura del pittore Marco D'Oggiono. Vediamo. Il comune di Oggiono ha messo in programma la creazione di un museo dedicato a Marco D'Oggiono. Si tratta di un percorso museale diffuso che andremo a fare proprio nel centro storico della città e dove si cercherà di valorizzare la figura del nostro concittadino più famoso che è Marco D'Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci. L'idea nasce da da un percorso museale non solo oggionese ma che percorrerà praticamente un territorio che è quello del lago e della collina e infatti è un lavoro che stiamo facendo e faremo con il comune di Ello per quanto riguarda la collina e di Annone per il lago. Ognuno avrà una sua tematica. Per Oggiono sarà appunto Marco D'Oggiono i pittori, per Annone invece saranno i commercianti, i mercanti, riferendosi al politico che c'è in San Giorgio e invece Ello saranno gli armaioli con la famiglia Negroni, i famosi armaioli di quel periodo storico. L'idea è nata soprattutto per valorizzare il nostro territorio dal punto di vista turistico e anche commerciale alla fine perché sicuramente un tipo di museo di questo genere che sarà all'aria aperta e quindi non ci saranno musei veri e propri a chiuso ma la gente potrà percorrere le vie della città e vedere queste installazioni, vedere queste opere sulle pareti delle case oppure in apposite bacheche, dicevo porterà sicuramente gente curiosa in città e quindi potrà contribuire non solo alla conoscenza del nostro pittore leonardesco ma contribuirà anche secondo me a sviluppare il commercio cittadino e speriamo appunto per la fine dell'anno comunque di avere il museo già percorribile con immagini, installazioni, totem eccetera. In acqua non si vince contro un avversario ma contro se stessi, è così che trovo il mio equilibrio. Il noto nuotatore lecchese Andrea Oriana si racconta con queste parole al Panathlon Club di Lecco nella prima conviviale dopo le restrizioni legate alla pandemia. L'atleta specializzato nel delfino negli anni ha riportato 15 titoli tricolori per i canottieri lecco e per le fiamme gialle fino alla partecipazione alle Olimpiadi di Atlanta nel 96 e poi il passaggio dalla vasca alle acque libere e le sue avventure nel canale della Manica e sul lago Tititaca in Sud America. All'incontro erano presenti il suo primo allenatore Vittorio Anghileri e il campione Giovanni Franceschi. La storia della satira lecchese raccontata da Paolo Cagnotto e Germano Campione a teatro invito per l'Università della Terza Età. Presente anche il vice sindaco di Lecco Simona Piazza. E' diffusa la cosa che Lecco non ride mai, sono tutti seri e nessuno ride. Quando si fanno le battute bisogna dire guarda che ho una battuta altrimenti non si ride. Lecco non è che si ride però si fa satira e anche di un certo tipo. Sorrisi e fragorose risate dietro le mascherine martedì pomeriggio alla lezione sulla satira per l'Università della Terza Età. Dal palco del teatro invito una rassegna sulla storia della satira lecchese di Paolo Cagnotto, direttore della Lecco Film Commission, e un approfondimento di Germano Campione sull'Ec Gaina, nota rivista lecchese. Sono dei personaggi che abbiamo scoperto strada facendo che facevano satira, personaggi importanti, famosi come Ghis Lanzoni. Ghis Lanzoni è il librettista dell'Aida, a suo tempo, se fosse stato il Festival di Sarema avrebbero detto presentiamo l'Aida, musiche di Giuseppe Verdi, testi di Antonio Ghis Lanzoni. Sembra buffo però abbiamo avuto un personaggio di questo tipo che ha fatto satira e humorismo. Abbiamo avuto anche Mario Cereghini che è un architetto famoso e anche lui ha fatto tutto un libretto sulla satira dello sci, lo sci di Lecco è nato a quei tempi. E poi via via abbiamo un mucchio di personaggi che hanno fatto satira da Chiappori ad altri albanesi stesso. Satira Ecco comincia tantissimo tempo fa, poi come spiegherà Germano Campione con l'Ec Gaina addirittura nel 1800. L'Ec Gaina è un periodo comodistico nato nel 1883 che però noi abbiamo ripreso poi negli anni 60. 1968 è nato il nuovo L'Ec Gaina. Quindi siamo riusciti a mantenere questa tradizione dal 68 al 2001. Poi sono cessate le pubblicazioni e io poi ho ripreso con alcune antologie. C'era una volta l'Egaina dove ho raccolto il meglio appunto di quelle riviste che erano uscite negli anni 60, 80, 90 eccetera, sino al 2001. L'Ecco e Sondrio diventano un unico canale. Il passaggio alle nuove frequenze è in corso. Ci troverete sul canale 75 del nuovo Digitale Terrestre. Quando non vedrete più Unica sul 12 o sul 193 dovrete risintonizzare il vostro televisore per continuare a seguire i nostri TG e le trasmissioni. Sul 75 Unica sarà visibile in tutta la Lombardia. Vi ricordo infine che potete seguire le nostre news su teleunica.com, guardare le trasmissioni e il palinsesto su Teleunica TV e trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Per questa sera è tutto, io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro una buona serata.